Il 14 dicembre 2014, Gianni Colacione per LibriTV, siamo in compagnia di Michela Di Michele nella sede radicale di Torra Argentina, è finita l'assemblea dell'Associazione Radicali Roma e Michela Di Michele è stata eletta tesoriera. È un incarico importante, giusto, perché è un giusto riconoscimento a un lavoro che Michela spesso ha fatto e ho potuto, posso testimoniarlo anch'io, diciamo un po' come una piccola formica operosa ma senza clamori per l'Associazione in tutte le varie occasioni, anche con i tavoli e così via e anche in un ultimo in questa assemblea. E quindi, però, siccome appunto è un incarico importante a caldo, volevo sentirla per sapere intanto un pochino come si sentiva, l'impatto emotivo di questa nomina, di questa elezione. Buonasera, grazie. A caldo mi sento onorata, gratificata sia per l'elezione ma soprattutto per le parole che ho sentito nei miei confronti e ritengo questa, ho preso questa elezione come un senso di apprezzamento per quello che ho fatto e anche un'investitura di aspettative che spero di non deludere. Sono contenta dell'esito, spero che ci sia sintonia, come ho detto anche nel discorso di accettazione della candidatura anzi, ci sarà sintonia, bisogna lavorare sinergicamente, in questo momento non è un proposito quanto un dovere per Radicali Roma quello di lavorare in sinergia dato il momento politico che sta attraversando Roma, non possiamo permetterci di non valorizzare quello che è stato fatto finora, di non valorizzare il ruolo di Riccardo Maggi in Consiglio Comunale e non possiamo permetterci che l'indignazione della cittadinanza romana rimanga tale e non venga fatta confluire all'interno di una strategia di partecipazione attiva alla politica cittadina che potrebbe mettere al riparo in futuro la città stessa dalla situazione attuale se i cittadini vorranno riappropriarsi di quello che gli è proprio, cioè di fare politica del loro essere cittadini e parte attiva all'interno di Roma Michele come sai, diciamo, nei vari contenitori, tra virgolette, associazioni radicali, insomma del movimento costituente o meno qualcosa radicale, insomma che è gravito nell'orbita radicale il tesoriere ha un ruolo anche politico, insomma viene chiamato il segretario 1 bis, il segretario insomma bis, insomma c'è un ruolo anche abbastanza importante dal punto di vista politico ecco tu pensi di esercitare questa tesoreria, c'è qualcosa che sapresti dirci adesso a caldo che tu hai intenzione di fare come discontinuità come tesoriera rispetto alla tesoriera uscente che era Igenia Canelles? Io ho apprezzato la tesoreria uscente e qui si segna con questo tipo di mozione e con questo tipo di volontà di portare avanti la mozione un cambiamento di modalità di fare politica che lo scorso anno non è stato messo sono state preferite altre attività, ci si è mossi in un modo diverso senza valutazione qualitativa, semplicemente in modo diverso quest'anno ci si propone di muoverci con una strategia politica di lungo periodo e che Miri ha degli obiettivi da raggiungere a livello cittadino e quindi questo presuppone un nuovo modo di porsi da parte delle cariche elette e quindi anche da parte mia sicuramente c'è un'adesione, c'è una comunione di intenti una sintonia tra quello che è scritto in mozione e quindi l'espressione del segretario che è stato eletto Alessandro Capriccioli e la mia idea di fare politica all'interno di un'associazione cittadina quindi a livello politico mi propongo di essergli vicino spero di dargli degli spunti interessanti su cui riflettere ma soprattutto di mettere quello che può essere il mio piccolo spunto e che rimarrebbe tale da solo di metterlo a sistema con quello del segretario e con quello del presidente di Demetrio Bacaro per farne uscire qualcosa che sia di più della somma dei tre pensieri messi insieme Sì, infatti adesso vi ricordo soprattutto ricordare anche nel tuo intervento hai detto che l'importanza del gruppo è ben superiore della somma dei singoli, degli individui Bene Michela, a questo punto mi resta anche a te augurare come ho fatto con Alessandro Capriccioli neosegretario, augurare buon lavoro ovviamente sarò presente e in qualche modo monitorerò tra virgolette questa attività con le riunioni, essendo anch'io iscritto a questa associazione grazie ancora per questa intervista Grazie a te 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 Grazie a te